Buongiorno amici, oggi parlerò di una cosa molto importante che mi sta molto a cuore. Qualche giorno fa infatti abbiamo dato il via alla piattaforma unica digitale nazionale delle targhe collegate ai permessi per i disabili. Cosa significa? Semplice! Ci sarà un unico database che semplificherà la vita ai numerosi disabili che si trovano in estrema difficoltà nei rapporti con i comuni, rapporti burocratici. Grazie a questo database digitale, le persone disabili potranno accedere a tutte le ZTL italiane senza nessun onere burocratico nei confronti dei comuni che devono attraversare. Semplice, no? Inoltre questo database impedirà abusi che danneggiano le persone disabili e la comunità. Insomma, attraverso questo progetto si fanno tre passi importanti. Si snellisce la burocrazia, si ammoderna e si viene incontro alle esigenze di tutti. Questo provvedimento parte dalle richieste delle numerose associazioni che tutelano i diritti delle persone con disabilità. Io sono felice di aver contribuito a rimuovere quei limiti che incidono negativamente sulla vita delle persone. Questa è la buona amministrazione che la Lega ha imposto anche al Ministero delle Infrastrutture. Questa è la Lega che passa dalle parole ai fatti. Ciao.